è che lui rischia è perché è un rischio figaro è partito ma va lì devi girare tutto così ma lui ha anche girato a fresco puntala di giù Giro puntala più dritta e ho sbagliato io poi hai girato sotto subito devi puntala più dritta poi c'è la pianta che devi passare eh è quello sta sono partito male qua sono partito male qua devo stare più largo devo stare più largo cazzo lì mi è andato via davanti sennò riuscivo a entrare prova no è molle ma niente riprova ma se c'è lì da qua o da lì muro lì bisogna mettere no ma è comodo qui qui è comodo perché fai così e poi prendere una secca tagliare uno di lì perché qua quando vieni giù se c'è un legno non c'ho creduto non c'ho creduto non c'ho creduto guarda abbastanza qua su sto montesa qua 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 dentro qua io la metterla qua mettila qua mettila incazzata tra le due piante dentro girala in su gira in su un po non così girala girala in su se va no ecco bravo ancora 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 allora vai in su vai in su ok meglio di prima è passa sotto la moto pace ma neanche vada faccio la moto così è vero capisci che c'è un pericolo mettiglielo qua